Iniziamo con il presidente eletto Giuseppe Cufari e segretario del Piretto. Grazie. Vicepresidente, vicepresidente sono due. Abbiamo il dottor Silivaldo Iemboli e il dottor Angelo Scavello. E poi sono anche Presidente di Commissione. Adesso non ricordo bene. Grazie. Grazie. Poi chiamiamo il tesoriere Antonio Russo, il nostro professionista della bellezza. Grazie. 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 Grazie.